Luca Micheli, insegnante della scuola alberghiera di Capresi Michelangelo, è il vostro debutto nell'area hospitality della Vivi Alto Tevere Volley San Giustino. È un modo per i ragazzi di confrontarsi con una realtà professionistica? Sì, noi non è la prima volta che facciamo attività di questo genere, però sicuramente è la prima volta che ci dedichiamo a una società e per noi è un gran pregio, siamo molto contenti di questo. Quanto è importante per i ragazzi della scuola alberghiera di Capresi confrontarsi con degli eventi di questo genere? Perché a scuola si mette in pratica l'insegnamento ma poi nella realtà sono diverse le cose da affrontare? Esatto, è importantissimo, queste manifestazioni sono importanti perché i ragazzi riescono a vedere qual è il vero lavoro che a scuola lo puoi solo simulare ma in realtà non riesci a ricrearlo nella realtà. Le vogliamo dare un po' di numeri della scuola alberghiera? Quanti sono i ragazzi? Che corsi vengono svolti? E soprattutto facciamoci un po' di pubblicità. Senza dubbio. Allora noi abbiamo una scuola non enorme, abbiamo due indirizzi per ogni anno, quindi circa 250 ragazzi. Gli indirizzi sono tre, cucina, sala bar e ricevimento, che qui è tutto rappresentato dalla reception alle ragazze di sala alla cucina. Quindi è una scuola che ti dà buone possibilità per il futuro. Mi togli una curiosità, sono i prodotti tipici della Valle Umbra e Toscana ma che cosa avete preparato questa sera? Allora, i prodotti sì, sono del territorio perché fa parte proprio della nostra sponsorizzazione e lavoriamo con la strada dei Sapori Valtiberina. Questa sera abbiamo delle preparazioni semplici come prima serata, un po' per vedere anche com'era l'ambiente. Quindi abbiamo un'insalata di trippa, un'insalata di farro con delle verdure, dei crostini rossi e dei crostini di zucca e degli insaccati del territorio, del solunficio valtiberino e più qualche stuzzicheria di panetteria. Per quanto riguarda i vini? I vini abbiamo sempre qui dei vini del territorio Umbro e Toscano. Con Leonardo Lotti che è il presidente della strada dei Sapori della Valtiberina Toscana la possiamo chiamare un'associazione che vive nel territorio e che vuole sviluppare la cultura dell'Alto Tevere, Leonardo? Sì, anche questo possiamo dire. In realtà siamo un'associazione che raggruppa produttori, ristoratori, piccoli agriturismi che si uniscono insieme per cercare di lavorare insieme su un argomento principale che è la qualità, la qualità del cibo, la qualità del prodotto, la qualità dell'ospitalità che cerchiamo di dare nella nostra zona. Abbiamo colto al volo questa occasione che ci hanno proposto di fare una piccola degustazione dei nostri prodotti perché ci è sembrata una cosa molto interessante anche se siamo già in Umbria, a pochi chilometri da noi, però Alto Tevere è tutto. inizia da Castello e arriva fino a Pieve e quindi ci è piaciuta molto questa idea e siamo corsi... Valtiberina, terra di arte, cultura ma anche di ricchezze gastronomiche che abbiamo avuto modo di ammirare questa sera. Ce lo spiega anche lei che cosa hanno potuto gustare nell'area hospitality della Vivi Alto Tevere San Giustino? Allora, partiamo da un'insalata di trip abbastanza insolita, insomma che non si trova di solito tanto facilmente anche in giro, che però è molto gradevole. Ha del cece piccolo toscano, che è un cece piccolo tondo liscio, semplicemente lessato e condito con un po' di olio. C'è un'insalata di farro, sia il cece che il farro sono coltivati ad anghiari. Poi ci sono dei prodotti da forno, i grissini e le streghe, che sono dei prodotti fatti da un'azienda sempre di anghiari che li cuoce solamente nel forno a base di olio. Vini, vini tutti dell'Alto Tevere, particolare menzione, è piaciuto molto il prosecco, che è una novità per la nostra zona, e il prosciutto, che anche a Lucchetta ho visto è piaciuto tantissimo.